E per me è un piacere molto grande accogliere il Presidente Sarkissian qui al Quirinale, insieme alla sua gentile consorte, alla delegazione che lo accompagna, per questa prima vista di Stato di un Presidente della Repubblica d'Armenia in Italia. Questa vista è storica, viene compiuta ed è un ulteriore significato nell'anno in cui la Repubblica d'Armenia festeggia il trentesimo anniversario dell'indipendenza. E anche per questa ricorrenza rinnovo gli auguri al Presidente Sarkissian. Sono lieto che siamo riusciti a realizzare questa visita rinviata per effetto della pandemia l'anno passato, in modo che questa vita si collega a quella che io ho svolto a Yervan nel 2018, di cui serve un ricordo davvero di grande, veramente magnifico. Armenia in Italia vantano rapporti di amicizia molto grandi, tradizionali, con relazioni eccellenti, caratterizzate da collaborazione crescente e contatti sempre più intensi. Abbiamo anche tante forme di collaborazione. Ho ringraziato il Presidente Sarkissian per la collaborazione che i militari armeni forniscono alla missione UNIFIL in Libano. Questi vincoli di amicizia, di collaborazione, sono stati confermati anche durante la pandemia. Ho ricordato al Presidente Sarkissian la sua cortese telefonata nel marzo del 2020, quando in Italia la tempesta della pandemia stava imperversando in maniera drammatica. I nostri medici hanno collaborato con quelli armeni a Yervan. Stiamo collaborando perché vi sia un'adeguata distribuzione di vaccini ovunque. Abbiamo chiesto al sistema COVAX di considerare, per i vaccini che l'Italia ha posta a disposizione, sono 45 milioni, considerare l'Armenia paese prioritario. Abbiamo parlato molto nei colloqui di questa mattina delle nostre relazioni collaborative. Io ho sottolineato come per l'Italia l'Armenia costituisca un partner affidabile e importante nella Regione e che questo porta a una collaborazione crescente, operativa, con il nostro intento di contribuire in maniera amichevole al percorso di riforma in corso in Armenia, con gli scambi di esperienze che reciprocamente ci facciamo e possiamo farci. Uno di questi settori è quello delle forze dell'ordine e dell'istema giudiziario. Vi saranno oggi tra gli accordi firmati in presenza di questa visita e in costanza di questa visita un accordo tra le scuole per la magistratura armenia italiana. Abbiamo parlato molto del sistema delle nostre aziende, dell'interesse delle nostre aziende per il mercato armeno. Alcuni sono già presenti, altri guardano un grande interesse che il nostro governo incoraggia. Abbiamo poi constatato con grande soddisfazione, ancora una volta, come avevamo già fatto a Yerevan, della grande qualità dei rapporti di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica. Abbiamo tradizionalmente un grande interesse reciproco del piano culturale e artistico. Abbiamo tra queste manifestazioni, in questi qui a Quirinale, esposte oggi alcune opere d'arte armene del XIX e XX secolo, per le quali ringrazio il Presidente Sarkissian. Abbiamo insieme a Yerevan inaugurato il Centro regionale per la conservazione e per la valorizzazione del patrimonio culturale e intendiamo continuare l'impegno per la sua attività. Con il Presidente Sarkissian abbiamo affrontato naturalmente il tema della ricerca di una soluzione stabile e duratura della questione del Lagorno-Karabakh. E riteniamo che sia importante affidarsi all'azione del gruppo di MISC, alla copresidenza del gruppo di MISC, come foro negoziale privilegiato e più efficace per poter trovare una soluzione negoziale, soddissacente e stabile. Vorrei esprimere la vicinanza che ho già espresso per le vittime e tutte le vittime del conflitto che vi è stato, negli scontri che vi sono stati, e l'Italia incoraggia le parti a trovare nel dialogo una soluzione condivisa e stabile e garantisca sviluppo in tutta la Regione. Infine, l'Italia attribuisce grande importanza al rapporto collaborativo tra l'Armenia e la Unione Europea, che è stato consacrato nell'accordo di cooperazione globale rafforzata entrata in vigore nel marzo scorso. È un ambito in cui si può sviluppare ulteriormente anche la nostra collaborazione bilaterale. Ringrazio quindi nuovamente il Presidente Sarkissian per la sua visita, per questa occasione di registrare ancora una volta le eccellenze dei nostri rapporti e fare il punto sulle prospettive di crescente collaborazione nell'amicizia e contrassegna in rapporto tra l'Armenia e Italia. Grazie e benvenuto, Signor Presidente. Presidente Mattarella, illustri rappresentanti del Mass Media, signore e signori, sono lieto io per la prima volta di trovarmi qua in prima visita di Stato in Italia da parte di un Capo di Stato della Repubblica di Armenia. Quindi ringrazio il Presidente Mattarella per questa splendida accoglienza e per l'invito di fare questa visita. Poco fa abbiamo avuto negoziati molto utili con il Presidente Mattarella e quindi sono la testimonianza del più alto livello delle relazioni alti e bilaterali. Abbiamo sottolineato la nostra reciproca disponibilità di promuovere il dialogo di alto livello e le relazioni bilaterali esistenti tra i nostri Paesi. Nei nostri negoziati abbiamo fatto riferimento anche ai rapporti economici e commerciali tra l'Italia e l'Armenia. Spero che queste relazioni arriveranno, che l'intercambio commerciale tra l'Armenia e l'Italia arriverà al livello del dialogo esistente tra i nostri due Paesi. L'intercambio commerciale tra l'Armenia e l'Italia nel 2020 ha registrato un calo dovuto alle restrizioni legate alla pandemia da coronavirus, ma nel primo trimestre 2021 non solo è stato ripristinato il livello dell'interscambio commerciale, ma è stata anche una crescita soddisfacente che sicuramente si tiene conto del persistere delle restrizioni. Abbiamo sottolineato l'importanza del progresso anche nei campi della tecnologia di informazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza alimentare, della biologia, dei settori moderni che sono legati alla... Abbiamo discusso degli approcci innovativi, degli impegni nei confronti nel settore scientifica tecnologica, abbiamo parlato del settore delle comunicazioni, abbiamo parlato dei cambiamenti, delle modifiche che possono portare approcci innovativi negli impegni nei confronti di molti paesi che hanno per fermare l'andamento pericoloso a causa dei cambiamenti climatici. Ho informato il signor Presidente che in Armenia con le istituzioni finanziarie e con specialisti armenie abbiamo sviluppato dei meccanismi che verranno presentati al forum globale in Gran Bretagna e verranno legati... Un sistema che legherà le finanze, il sistema finanziario all'attività positiva politica. Quindi non sono degli swap dei debiti, ma sono delle prospettive politiche che i nostri specialisti presenteranno al Glasgow. Abbiamo parlato della nostra collaborazione scientifica e tecnologica, ho presentato il discorso delle possibilità e delle prospettive dei progetti congiunte con le aziende italiane nell'ambito dell'iniziativa presidenziale Atom Advanced Tomorrow. Diamo molta importanza allo scambio tra persone e in particolare al settore turistico. Sia l'Irmania è gratificante che la parte armenia di ambi due paesi ci sia un reciproco interesse nel confronto del patrimonio culturale. Abbiamo rilevato l'importanza della conservazione del patrimonio culturale nell'uno dell'altro. Siamo interessati... Noi desideriamo che l'Italia sia più coinvolta nel nostro sistema di istruzione e che rafforzerà la comunicazione del nostro popolo con l'identità, la cultura e la storia italiana. Ho presentato al mio collega la situazione relativa alla risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh. Ho rivadito la disponibilità dell'Armenia a continuare il lavoro per la risoluzione pacifica del conflitto attraverso la mediazione e il presidente del gruppo di Miskte Losche. A questo proposito abbiamo valutato la necessità di mantenere posizioni e approcci equilibrati in merito alle questioni delicate per entrambe le parti. Apprezziamo molto la volontà del governo italiano di continuare a sostenere il progetto ROCEMP e attraverso di esso a contribuire alla conservazione dei monumenti storico-culturali sia in Armenia che altrove. L'Armenia è grata all'amica Italia per la continua sensibilità manifestata in materia dei diritti umani. Apprezziamo molto la risoluzione adottata dal Parlamento italiano lo scorso 2 marzo che chiede il rilascio dei prigionieri di guerra armeni. Accogliamo con grande favore anche le mozioni e le risoluzioni adottate da circa 50 consigli regionali e comunali in difesa del popolo di Arzac. Importante. Attribuiamo molta importanza alla partecipazione della missione degli specialisti italiani al processo della tutela del patrimonio storico-culturale armeno dopo l'istituzione del cessato il fuoco e nonché la loro partecipazione e la collaborazione con l'UNESCO nell'ambito dell'UNESCO. Uno dei migliori esempi della forte collaborazione tra i nostri paesi sforzi comuni dell'Armenia e dell'Italia per la pace e per la sicurezza nell'ambito del Comando Generale delle Forze delle Nazioni Unite in Libra. Ringrazio per la decisione del Governo italiano di fornire all'Armenia numerose dosi di vaccino in questa difficile situazione di gestione della pandemia. Ho sottolineato che l'Armenia apprezza molto la collaborazione multilaterale attuata con l'UE in ambiti come i diritti umani, la protezione delle libertà fondamentali, i programmi congiunti di sviluppo sostenibile e la governance efficace. Sono convinto che la mia visita di Stato in Italia volta al futuro darà un nuovo slancio e un nuovo contenuto alla collaborazione tra i nostri Paesi e alle future iniziative. Questa sarà non solo una mia prima visita di Stato, ma diventerà una base per i prossimi decenni per rapporti tra l'Italia e l'Armenia ancora più forti e ancora più ampi. In conclusione vorrei ancora una volta esprimere il mio ringraziamento al mio carissimo amico eccezionale stratega, autorità di fama internazionale, al Presidente Sergio Mattarella, per la sua calorosa accoglienza alla delegazione armenia e ribadire la mia disponibilità a continuare come in veste del Presidente della Repubblica di Armenia di mettere di me i miei sforzi per ampliare la collaborazione in tutti i settori tra l'Armenia e l'Italia. Grazie.